Non parliamo di religione, parliamo di fede viva in Cristo Gesù, perché la fede è quella che ci permette di afferrare ciò che la grazia di Dio ci dona gratuitamente. Gesù nel suo amore è venuto a salvarmi, ha cambiato la mia vita e nel momento in cui mi sono convertito, cioè ho dato il mio cuore a Gesù, ho permesso a Gesù di entrare nella mia vita, ho realizzato il perdono dei peccati. Tu hai mai offerto un culto a Dio? Hai mai glorificato Dio? Ma non recitando una preghiera, ma ringraziandolo perché hai un rapporto diretto con Dio? Grazie. 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 Grazie.